Ristrutturare le scuole sarà più semplice. Aumentano i costi, le città della salute rivedono le previsioni di spesa. Salone del libro, grande successo per gli eventi del Consiglio regionale. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, approvate all'unanimità dall'Aula due proposte di delibera. La prima riguarda l'edilizia scolastica, la seconda gli impianti sportivi. Procedure più semplici per gli interventi di edilizia scolastica e ampliamento delle possibilità per accedere ai fondi regionali per gli impianti sportivi, con l'approvazione all'unanimità di due proposte di deliberazione da parte dell'Assemblea di Palazzo Lascaris. La prima è la PDCR 201, che modifica la precedente delibera del marzo 2019 sul diritto allo studio e consente, come illustrato dall'assessore all'istruzione, di snellire le procedure per attuare gli interventi di edilizia scolastica di conservazione, rinnovo e ampliamento. Il provvedimento mira a agevolare il compito degli enti locali che hanno l'onere della gestione e della manutenzione straordinaria. La seconda proposta approvata, la PDCR 227, interviene sul programma triennale 2020-2022 sull'impiantistica sportiva. La modifica, come spiegato dall'assessore allo sport, consente alle società escluse dal vecchio bando, quelle che avevano meno di sei anni di concessione dell'impianto, di poter accedere ai fondi regionali per gli interventi sugli impianti sportivi. Cade quindi il vincolo temporale per partecipare al nuovo bando, che verrà predisposto dalla Giunta per gli interventi di miglioramento e riqualificazione degli impianti sportivi e per il quale è destinato un milione di euro. Aumentano i costi e le città della salute di Torino e Novara rivedono le previsioni di spesa. Il nucleo di valutazione del Ministero della Salute ha espresso parere positivo sul nuovo capitolato della città della salute di Novara, con un adeguamento di 99 milioni di euro del finanziamento per la realizzazione dell'opera, che ora potrà contare su una dotazione finanziaria di 419 milioni di euro. Ad annunciarlo, l'assessore alla Sanità, che lunedì scorso aveva svolto un'informativa in quarta commissione sullo stato di avanzamento dei lavori per realizzare le due città della salute di Torino e Novara, spiegando che si sta lavorando con ANAC per trovare un meccanismo che consenta di rivedere i prezzi, evitando che le gare vadano deserte. La Regione ha predisposto un emendamento per chiedere l'estensione delle procedure di revisione dei prezzi anche per le gare in corso prima del 27 gennaio e in attesa che venga recepito, l'azienda Città della Salute di Torino ha prorogato di tre mesi i termini per le ditte che entro fine maggio avrebbero dovuto presentare il progetto definitivo in modo che i lavori possano comunque essere affidati entro fine anno come da cronoprogramma. Sempre per la Città della Salute di Torino, ha aggiunto l'assessore, dal settembre scorso procedono i lavori di bonifica dell'otto 1 su cui sorgerà l'ospedale che dovrebbero concludersi entro l'estate. I circa 50 dipendenti dello stabilimento ex male di La Loggia, né Torinese, potrebbero essere assorbiti nell'impianto di Saluzzo in provincia di Cuneo. Il prossimo 3 giugno ci sarà l'incontro tra la proprietà e le organizzazioni sindacali e quanto ha risposto l'assessore regionale al lavoro al gruppo del Partito Democratico che in merito aveva chiesto un'informativa alla Giunta. Sono oltre 1.500 le famiglie piemontesi che hanno aperto spontaneamente le porte della propria casa per accogliere interi nuclei familiari ucraini. Per sostenerle economicamente è stato istituito un conto corrente dedicato alla raccolta fondi di privati. Questa è la risposta della Giunta al question time di Fratelli d'Italia che chiedeva quali forme di aiuto economico sono state messe in campo dalla regione per le famiglie che ospitano profughi ucraini. Grande successo per gli eventi organizzati dal Consiglio regionale al Salone del Libro di Torino. Giovani protagonisti di numerosi appuntamenti in Arena Piemonte. Nell'anno europeo dei giovani sono stati numerosi gli incontri che il Consiglio regionale ha dedicato alle nuove generazioni in occasione della 34esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino. Facendo leva sull'importanza della cittadinanza attiva nel corso dell'evento Europa Ambiente Digitale La Parola ai Ragazzi è stato presentato il progetto formativo promosso dal Consiglio che intende coinvolgere i giovani nei processi di consultazione a livello europeo, nazionale e locale. L'Europa offre tantissimo ma c'è bisogno di diffondere molto di più l'identità europea e cercare di far capire ai giovani quanto l'Europa effettivamente sia utile e quanto faccio effettivamente per noi giovani. Non perdo mai o vinco o imparo. Una citazione del premio Nobel per la pace Nelson Mandela ha fatto da filo conduttore in Arena Piemonte all'evento che ha visto protagonisti i 516 studenti vincitori delle edizioni 2021-2022 dei concorsi indetti dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale a premiare i vincitori l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla presenza del Ministro per le Politiche giovanili. Ho realizzato un elaborato molto stimolante Su cosa? Sul senso di appartenenza dei cittadini dell'Unione all'Unione europea ed è un argomento che sentivo molto mio quindi ho scelto di farlo proprio per quello. Ha tratto ispirazione da cuori selvaggi tema portante del salone l'incontro fuori dagli schemi che ha dato voce a personaggi del mondo dell'arte della letteratura, dello spettacolo, dello sport che nel compiere scelte controcorrente hanno realizzato progetti e opere inedite e creative. Sono musicista, ho cominciato a suonare il piano da 5 anni e invece ho diverto per la prima volta a 12 anni. Penso di essere fuori dagli schemi per quello che rappresento, per come lo rappresento. Bisogna avere la fantasia e cercare di creare ed essere sempre fuori dal gruppo. I giovani sono stati i destinatari principali di altri due incontri ad alta valenza formativa il primo organizzato da difensore civico e garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza che ha voluto riflettere sul potere della comunicazione come strumento per combattere pregiudizi e discriminazioni. Abbiamo proprio deciso, io e il difensore civico, di concentrarci sull'importanza delle parole, del dialogo, del sapersi rapportare agli altri ma anche agli adulti di riferimento in un mondo come quello sportivo. L'educazione alla parola ritengo che sia importantissima perché le parole hanno un peso e quindi vanno usate in maniera consapevole e anche in maniera responsabile perché alcune volte con le parole si possono fare danni maggiori che forse con un atto fisico. Il secondo incontro formativo a cura dell'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e della guardia di finanza ha inteso sensibilizzare i ragazzi sull'uso responsabile del denaro. In Arena Piemonte si è parlato anche di molti altri temi dal fascino dei borghi alla sana alimentazione, dalla ricerca scientifica per combattere il cancro al ruolo delle donne in pace e in guerra. In Arena Piemonte, protagonisti, i borghi del Piemonte non solo quali mete turistiche ma anche come luoghi dove è bello vivere e lavorare. Questo è il focus dell'incontro, tre buoni motivi per vivere in un borgo piemontese. Un territorio che si riscopre oggi, il territorio montano che dice che non è quello dei lassù gli ultimi o di chi non è andato via perché non sapeva dove andare ed è un territorio pieno di risorse e di opportunità. La conoscenza patrimonio popolare, dalla musica ai proverbi alle danze è stata al centro dell'evento Paese che vai, parole che trovi. Ogni paese del Piemonte ha le sue parole. È un tema che si sposa in modo straordinario con i cuori selvaggi di quest'anno al Salone Internazionale del Libro il tema del Salone Internazionale di Votorino perché il cuore selvaggi vuol dire la nostra diversità la bellezza della nostra diversità. Primo piano anche sui tesori della terra a chilometro zero dalla favola alla tavola una raccolta di fiabe che unisce tutte le generazioni alla scoperta dei prodotti green del territorio. Andiamo a incuriosirci, innamorarci, fare amicizia con i prodotti frutta, verdura, legumi in particolare portiamoli nel piatto, portiamo delle favole nel piatto e così impariamo a essere più felici non solo per oggi ma per il domani. Il Salone del Libro è stata un'occasione per celebrare anche i 35 anni della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo con un evento sostenuto dagli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere che ha raccontato gli importanti traguardi raggiunti da questa eccellenza medico-scientifica. La malattia cancro è una malattia terribile e si è già arrivati oggi a poter curare tanti tipi di cancro e quindi tanti malati però non ci si può fermare noi dobbiamo andare avanti. La forza delle donne sia in tempo di pace sia in guerra è stato il tema dell'incontro promosso dal Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili e la Consulta Femminile Regionale. In tutti i movimenti di questo secolo ma anche prima le donne sono protagoniste dalla Birmania al Nord Africa all'Ucraina a tutta l'est Europa notiamo che i diritti umani sono difesi innanzitutto delle donne sono le più colpite ma anche le più coraggiose. Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio Regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.